Per spostarmi in città, al centro della città, uso i mezzi pubblici, è meglio usare la metropolitana, sicuramente è un pochino più veloce, anche se non ci sono dei servizi ottimali, specie nelle fasce serali e notturne. Io conosco molti turisti che vengono a Roma, si trovano un po' spaisati, specialmente sulla comunicazione di variazioni, di itinerari, di orari, quindi la comunicazione non è al top, sicuramente. Sicuramente la moda potrebbe essere introdotta all'interno delle metropolitane, per esempio, fare presentazioni di artisti emergenti, di stilisti e far conoscere un po' tutti le novità nel tema della fashion.